Facendo un viaggio medico in Germania, il paziente apre le porte a un nuovo livello di cura per la sua salute. Il mio compito è fornire ai nostri clienti l'accesso a tecnologie mediche avanzate e specialisti altamente qualificati. La Germania è un paese molto pratico. Anche la medicina estetica plastica mira all'armonia naturale. E non ha i risultati vistosi degli interventi. I pazienti si godono di nuovo la vita. Ritornano dopo il trattamento della malattia al loro lavoro preferito. Alle attività ricreative e alla nascita dei figli. La maggior parte dei turisti medici non considera lo shopping o le visite turistiche come fini a se stessi quando scelgono una destinazione per un viaggio per le cure. L'importante è guarire. Tuttavia, è noto che oltre all'assistenza medica di alta qualità, la Germania offre un ricco ambiente culturale e storico. Viste meravigliose, una cucina raffinata e tutti i tipi di shopping. Le cliniche tedesche che visitiamo con i nostri pazienti sono sempre una combinazione di competenza, innovazione e comfort. In Germania, a differenza di altri paesi, non esistono ospedali costruiti appositamente per pazienti internazionali. Qui in ogni ospedale c'è un ambiente confortevole, pulito e ordinato e il personale aiuta a mantenere un atteggiamento positivo prima dell'intervento chirurgico o del trattamento. La qualità dell'assistenza medica in Germania è confermata soprattutto dalla regolare gestione della qualità. Dalle certificazioni accettate sia a livello locale che internazionale e dall'obbligo di tutti i medici di migliorare regolarmente le proprie qualifiche. Ciò significa che i pazienti possono contare su elevati standard di sicurezza. La cosa più importante è l'esperienza. Dove esattamente è chi è specializzato nel trattamento della malattia di cui soffre il paziente. Possiamo tenere conto dei desideri del paziente e fare tutto il possibile per adattarli all'ordine qui accettato. Sono un medico. Quindi prometto competenza in tutte le fasi. Dall'esame della domanda. Alla registrazione dell'arrivo. Al soggiorno per il trattamento con pieno contatto con il personale medico. Alla traduzione delle dichiarazioni mediche e al supporto informativo per il paziente dopo la sua partenza a casa. Vorrei sottolineare che in Germania non sono le cliniche a correre dietro ai pazienti stranieri, ma le aziende organizzative che si sforzano di garantire che gli ospedali accettino i loro clienti. Gli ospedali tedeschi operano nel sistema di assicurazione sanitaria e non soffrono di carenza di pazienti. Il numero di letti e di medici è strettamente regolamentato. Al contrario. Alcune aree risultano attualmente sovraffollate a causa del fatto che negli anni precedenti. A causa delle note circostanze epidemiologiche. Molti interventi e appuntamenti programmati sono stati annullati. Naturalmente l'ambito delle attività della nostra azienda comprende anche il supporto per l'ottenimento del visto medico. L'organizzazione dell'alloggio e del tempo libero. I servizi di trasporto. L'assistenza nella fornitura di medicinali e forniture ausiliarie. Un aspetto molto importante è che i pazienti sono accompagnati dai nostri traduttori per comunicare con i medici e altro personale ospedaliero e per espletare le formalità nelle istituzioni mediche. Per i pazienti che decidono di recarsi in Germania è importante sapere che il processo di organizzazione del viaggio può essere complesso. Apprezziamo molto i nostri partner in diversi paesi. Dove possono aiutare i clienti a organizzare i documenti necessari. La traduzione e altri aspetti del viaggio imminente. I pazienti dovrebbero anche considerare i fattori relativi alla cura e al recupero postoperatori. In alcuni casi. Può essere necessario un lungo soggiorno nel paese dopo il trattamento per l'osservazione e le consultazioni di follow up con i medici. Si consiglia ai pazienti di pianificare in anticipo un tempo sufficiente per il completo recupero e noi aiuteremo a renderlo il più conveniente possibile. La Germania mantiene la sua reputazione di paese favorito nel campo del turismo medico. Con il suo alto livello di assistenza medica e il suo ricco patrimonio culturale. La Germania attrae pazienti da tutto il mondo. Coloro che cercano una combinazione di competenze mediche e l'opportunità di sperimentare o rivisitare il paese. Se volete venire ad un appuntamento con medici tedeschi per una visita o un trattamento. Scriveteci semplicemente una richiesta all'indirizzo sottostante o tramite messenger.